Ora, per finire il discorso, diciamo che l'esperimento andrebbe ripetuto con una frequenza diversa, come anche era l'esperimento di Hebb, quindi ripetere l'esperimento a più frequenze. Se io, per esempio, riducessi la frequenza, la dimezzassi, l'abbiamo visto anche in un video precedente, dimezzando la frequenza, la lunghezza d'onda raddoppia. Quindi la lunghezza d'onda non è più di 12 cm, ma è magari di 24 cm. Quindi vuol dire che le fasi e le controfasi non sono più ravvicinate come prima, interferenza costruttiva, distruttiva, costruttiva, distruttiva, ma saranno più distanziate perché la lunghezza d'onda è raddoppiata. Quindi io non avrò l'interferenza costruttiva qui, ma magari qua. E la successiva interferenza distruttiva sarà molto più avanti, quindi distruttiva, costruttiva e le misure che potrò prendere saranno di meno. Perché a un certo punto il tubo finisce e non potrò prendere come prima 7 interferenze tra costruttive e distruttive. Magari ne prenderò solo 3 o 4 perché la lunghezza d'onda è diventata molto più lunga, è raddoppiata.